salve ragazzi bentornati nel mio canale io sono bushi come avrete sicuramente capito sia dall'immagine di copertina sia dal titolo oggi parlo di jump force porterò la serie ancora non so bene come porterò come strutturerò i vari video però il mio intento è portare tutta la storia le missioni secondarie questa è anche la prima volta chiuso la webcam quindi scusate per l'illuminazione per la stessa qualità del video però spero che la serie vi piaccia spero che la seguirete con me al fio no ma ci m o sっかり廃墟になりましたね Eh, tutti sono un lavoro sicuro. Si, sono state di un'amore di un'amore di grande l'amore, sono stati che si riuscano. Con un'amore di Venom, il mondo è un'amore di dimenticare. Ma se, se il il nero di un'amore di un'amore, potrebbe essere un'amore di un'amore. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora tipo A con stile di combattimento Che sfrutta le arti marziali Ok Colpi rapidi e precisi Ispirato ai pirati E quello ninja Quello ninja Io vado sul ninja Grazie a tutti Grazie a tutti Allora si questo è un tutorial Benissimo Ispiriamo le basi Va bene Muoverti Salta con X Ok Si questo è come quello di Naruto Infatti bene In alto a sinistra e a destra C'è la vita Colpo Ok 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 Allora Allora Non era questo sicuramente Allora Però non me lo segna Impeto verso l'alto Ah ok Non posso Non posso Concatenarli insieme No Ok quindi Devo fare una serie di tre colpi In alto e anche in basso In alto Carino 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 Ah vabbè niente Triangolo Attacchi pesanti Certo Tiene un premuto Ok Cerchio per eseguire Una proiezione Colpendo il nemico Lo lancerai Attacco pesante Col quadrato Bene Oh vabbè Bisogna fare sempre la serie Per completare Il tutorial L'hanno pigiato C'è quello E La proiezione Con il cerchio Certo R1 Per metterti R1 Per metterti In guardia E parare La parata Riduci danni Ma non può Fermare una proiezione Ovviamente R1 E quella L Schivo E quindi Adesso Devo combattere Immagino Vero Subito Cominciamo Cattivissimo E fermate Volevo un po' Allora No Non ce l'ho fatto Volevo prendere Attacco pesante Vediamo un po' Presa Eccola qua Riuscita No Ancora devo capire I tasti Tutte le combo Ovviamente Devo ancora capire Tutto Quindi scusate Se ovviamente So veramente La merda Eh no Che Cazzo Non posso far ammi Quando entra Questa serie Merda Però Ci sta Prendere la mano Quindi buono Allora Andiamo un po' Se riesco A non Non so Riuscire a fargli Dentro La presa Ancora Ancora la presa Benissimo Andiamo Vediamo se riesco Riuscire a fargli Un po' Non mi fa La schivata Ancora 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 Allora Che ho? Ah L1 Fa Qualcosa Fa qualcosa Di molto veloce Lo scatto avanti Verso la sversaria Chissà se posso falle anche indietro Sì posso falle anche indietro Per scappare Benissimo R2 Ah R2 Mi carico L2 Niente Ah R1 Mi parlo Ma ovviamente Subisco Perché sono abbastanza Sufido Dai non fai Il tempo Però ci siamo Dai ci siamo Ci siamo Ah Eccolo qua Dai 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 che è andato Niente Presa Scrivata Non me la faccio Scrivata Fa un culo E' finito col pesante Ah il primo tutorial Di combattimento E' concluso Navigata Cube No Casi Scrivata 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 Ok, ok, ok. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti